Tren Nord non twitta più. Dopo aver annunciato il ritardo di un quarto d'ora del Cremona Treviglio delle 19.43, la sera del 14 aprile, la società dei treni lombardi non cinguetta più su Twitter, il canale usato dai pentolari per orientarsi nel deserto delle informazioni. Da allora i passeggeri sono stati indirizzati su alcune applicazioni realizzate con un nuovo investimento, invece di riorganizzare gli orari e prevenire una volta per tutti i ritardi, dovuti a cause che si ripetono periodicamente, come i guasti dei passaggi a livello ai convogli in circolazione da 40 anni, cambia il mezzo di comunicazione dei ritardi. Il 21 aprile, in compenso sulla Mantova Cremona Milano, tra Marcaria e Castellucchio, circolava un annuncio di 70 minuti di ritardo, mentre il giorno prima, tra Pizzighetone e Codogno, i viaggiatori dovevano aspettare 30 minuti più del previsto per un guasso agli impianti di RFI. Le informazioni corrono con il passaparola, i gruppi WhatsApp e Facebook. La modernità dei trasporti ferroviari non va oltre i 70 treni diesel che si trovano nel deposito di Cremona, sul totale dei 92 convogli mai sostituiti da quasi mezzo secolo. Sono i treni più inquinanti che viaggiano per lo più sui binari bresciani per trascorrere la notte e ripartire proprio da Cremona, la città più inquinata della Lombardia, come risulta dai dati dell'ARPA dei primi mesi di quest'anno. Malgrado le promesse dell'assessore Alessandro Sorte e le richieste del comune di Cremona, i motori meno ecologici non sono mai stati cambiati e chissà se ne se ne parlerà nell'assemblea degli azionisti di Ferrovie Nord, la società proprietaria di Trenord assieme alla regione. Il comune da parte propria ha organizzato il Repulisti Day, due giornate di pulizia straordinaria delle aree attrezzate della stazione, sabato scorso nelle aree davanti alle sedi di una concessionaria di automobili, delle poste o all'ingresso carrabile della stazione, dove i viaggiatori lasciano solitamente le biciclette e sabato prossimo nella zona del bar.